Parte prima 1 Era una luminosa e fredda giornata d'aprile, e gli orologi battevano tredici colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, a impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchi, e il logo di stoini. Ad una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande, per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, e il volto di un uomo di circa 45 anni, con folti baffinieri e lineamenti severi, ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente, e al momento, in ossequio alla campagna economica e in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore di urne l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano, e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile ad uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi della finestra. Giù in strada piccoli mulinelli di vento facevano orteare spirali di polvere e di carta a straccia e sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose e se cettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffinieri guardava fisso da ogni cantone. Venera uno proprio sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto strappato ad uno degli angoli sbatteva il vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola. «So Ching». In lontananza un elicottero volava bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia, che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non avevano molta importanza. Solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a far fugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse messo un suono anche appena appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente, non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione. Con quale frequenza o con quali sistemi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere e di fatto vivevate in virtù di quell'abitudine che diventa istinto presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento che non fosse fatto al buio attentamente scrutato. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. Ad un chilometro di distanza immenso e bianco nel sudicio panorama si ergeva il Ministero della Verità il luogo dove lui lavorava. E questa pensò con un senso di vaga ripugnanza questa era Londra la principale città di pista 1 a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti con i fianchi sorretti da travi di legno le finestre rattoppate col cartone i tetti ricoperti da fogli di laniera ondulata i muri dei giardini che pericolavano inclinandosi da tutte le parti. E le aree colpite dalle bombe dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente sui mucchi delle macerie e i posti dove le bombe avevano creato spazi più ampi lasciando spuntare colonie di case di legno simili a tanti pollai. Ma era inutile non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità Miniver in Neolingua differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che si innalzava terrazza dopo terrazza fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere ben stampati sulla bianca facciata in eleganti caratteri i tre slogan del partito. La guerra è pace la libertà è schiavitù l'ignoranza è forza. Si diceva che il Ministero della Verità contenesse 3000 stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri tre edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli fabbricati circostanti che dal tetto degli appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e quattro simultaneamente. Erano le sedi dei quattro ministeri fra i quali era distribuito l'intero apparato governativo. Il Ministero della Verità che si occupava dell'informazione dei divertimenti dell'istruzione e delle belle arti il Ministero della Pace che si occupava della guerra il Ministero dell'Amore che manteneva la legge e l'ordine pubblico e il Ministero dell'abbondanza responsabile per gli affari economici. In neolingua i loro nomi erano i seguenti Miniver Minipax Miniamor e Minihab. Tra tutti il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre. Winston non vi era mai entrato anzi non vi si era mai accostato ad una distanza inferiore al mezzo chilometro. Accedervi era impossibile se non per motivi ufficiali e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occoltati. Anche le strade che conducevano ai recinti esterni erano pattugliate da guardie con facce da gorilla in uniforme nera e armate di lunghi manganelli. Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Uscendo a quell'ora dal Ministero non aveva potuto mangiare alla mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido in colore con una semplice etichetta bianca Gin Vittoria. Emanava un odore nauseante e oleoso che ricordava l'alcol di riso cinese. Winston si versò il corrispondente di una mezza tazza da tè e preparò al colpo poi l'ingoiò come se si trattasse di una medicina. La faccia gli si fece subito rossa mentre gocce d'acqua gli uscivano dagli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico quando la singogliava era come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno sfollagente. In ogni caso un attimo dopo il bruciore nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta sigarette vittoria e la tenne incautamente verticale al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva. Ritornò nel soggiorno e si sedette ad un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo. Tirò fuori dal cassetto un portapenne una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato ancora in tonso con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Per un qualche misterioso motivo nel soggiorno il teleschermo si trovava in una posizione insolita. Invece che nella parete di fondo come era la norma da dove avrebbe potuto controllare tutta la stanza era stato messo sulla parete più lunga di fronte alla finestra. Ad uno dei suoi lati vi era una specie di rientranza poco profonda nella quale era seduto Winston. Nelle intenzioni di chi aveva a suo tempo costruito gli appartamenti doveva forse servire a contenere scaffalatore per libri. sedendo in questa rientranza con le spalle ben addossate al muro Winston poteva restare fuori del raggio visivo del teleschermo poteva essere udito naturalmente ma finché non mutava posizione non era possibile vederlo e forse proprio la particolare conformazione della stanza gli aveva suggerito ciò che ora stava per fare. Gliel'aveva suggerito anche il quaderno che aveva appena preso dal cassetto. Era un quaderno di rara bellezza con la carta liscia e vellutata appena ingiallita dal tempo di un tipo che non si produceva da almeno 40 anni. Winston poteva facilmente capire tuttavia che il quaderno era anche più antico. L'aveva visto nella vetrina di una sudicia bottega di rigattieri in un miserabile quartiere della città di cui aveva scordato il nome ed era stato immediatamente assalito dall'inopprimibile desiderio di possederlo. A rigor di termini i membri del partito non potevano entrare nei negozi normali e un'azione del genere veniva definita fare acquisti al libero mercato ma il divieto non veniva rispettato in senso stretto perché vi erano diverse cose come le stringhe per le scarpe e le lamette da barba e non ci si poteva procacciare altrimenti. Winston aveva gettato una rapida occhiata a entrambi i lati della strada poi era entrato di soppiatto nella bottega e aveva comprato il quaderno pagandolo 2 dollari e 50 centesimi in quel momento non sapeva neanche per quale motivo particolare lo desiderasse tanto l'aveva messo nella cartella e se l'era portato a casa avvertendo un certo senso di colpa anche se non vi era scritto niente era un oggetto compromettente ciò che ora stava per fare era iniziare un diario un atto non illegale di per sé nulla era illegale dal momento che non esistevano più leggi ma si poteva ragionevolmente presumere che se lo avessero scoperto l'avrebbero punito con la morte o nella migliore delle ipotesi con 25 anni di lavori forzati Winston inserì un pennino nella cannuccia poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia questo tipo di penne era uno strumento antiquato che non si usava quasi più nemmeno per firmare ed egli era riuscito a procurarsene una clandestinamente e non senza difficoltà solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero e non di essere graffiata da una penna qualsiasi in effetti non era abituato a scrivere a mano eccezione fatta per appunti brevissimi dettava tutto al parlascrivi che non poteva certo utilizzare in quella circostanza intinse la penna intinse la penna nell'inchiostro poi ebbe un attimo di esitazione tremava fin nelle viscere segnare quella carta era un atto definitivo cruciale a lettere piccole goffe scrisse 4 aprile 1984 appoggiò la schiena alla sedia sopraffatto da una sensazione di totale impotenza tanto per cominciare non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984 la data doveva essere più o meno quella perché era certo di avere 39 anni di essere nato nel 1944 o 1945 ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due per chi si chiese ad un tratto scriveva quel diario per il futuro per gli uomini non ancora nati la sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina poi andò a cozzare contro la parola in neolingua bipensiero solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse temerario ciò che aveva intrapreso come far a comunicare col futuro era una cosa di per se stessa impossibile o il futuro sarebbe stato uguale al presente nel qual caso non l'avrebbe ascoltato sarebbe stato diverso e allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi ma che non sapesse neanche più che cosa voleva dire originariamente erano settimane che si preparava a questo momento e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio l'atto della scrittura sarebbe stato facile non avrebbe dovuto fare altro che riportare sulla carta quel monologo di uturno e inquieto che da anni letteralmente gli scorreva nella mente ora però anch'esso si era prosciugato l'ulcera varicosa inoltre aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile non osava grattarsela perché a farlo si sarebbe certamente infiammata i secondi passavano aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé della pelle della caviglia che gli prudeva dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin all'improvviso prese a scrivere in preda al panico più puro consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù la sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina da prima trascurando le maiuscole poi anche i punti fermi 4 aprile 1984 ieri sera al cinema solo film di guerra uno ottimo di una nave piena di rifugiati bombardata da qualche parte nel Mediterraneo il pubblico molto divertito dalla scena di un grassone grande e grosso che cercava di sfuggire ad un elicottero che lo inseguiva lo si vedeva prima sguazzare nell'acqua come un delfino poi attraversi congegni di mira dell'elicottero dopodiché era pieno di buchi e il mare attorno a lui diventava rosa ed egli affondava all'improvviso come se i buchi avessero fatto entrare l'acqua il pubblico dette in grosse risate quando l'uomo affondò poi si vedeva una scialuppa di salvataggio piena di bambini con un elicottero che le volteggiava sopra c'era una donna di mezza età forse un'ebrea seduta a prua con un bambino di tre anni fra le braccia il bambino strillava dalla paura e nascondeva la testa fra i seni della madre come se volesse scavarsi un rifugio nel suo corpo e la donna lo abbracciava e lo confortava anche se era anch'essa folle di terrore coprendolo come poteva come se le sue braccia potessero allontanare da lui i proiettili poi l'elicottero sganciò una bomba da venti chili che li prese in pieno in un bagliore terribile poi la barca volò in mille pezzi poi ci fu una bellissima inquadratura del braccio di un bambino che andava su 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 nell'aria doveva averlo seguito un elicottero con una cinepresa sul muso e uno scroscio di applausi si levò dai posti riservati ai membri del partito ma una donna nel settore destinato ai prolet cominciò a fare un gran baccano gridando che non dovevano far vedere queste cose ai bambini no finché la polizia non l'ha buttata fuori credo non gli sia successo nulla nessuno si preoccupa di quello che dicono i prolet era stata una reazione tipica dei prolet loro non Winston smise di scrivere anche perché gli era venuto un crampo alla mano non sapeva che cosa l'avesse indotta a buttar giù quella robaccia ma il fatto curioso era che mentre scriveva gli era affiorata alla mente un ricordo del tutto diverso in maniera così nitida che quasi sentiva di poterlo descrivere con accuratezza anzi ora si rendeva conto che era stato proprio quell'avvenimento a spingerlo a tornare a casa in anticipo e a dare inizio al suo diario era accaduto sempre che si potesse dire che un qualcosa di così indistinto fosse realmente accaduto quella mattina al ministero erano quasi le undici e nell'archivio dove lavoravo Winston stavano tirando le sedie fuori dai cubicoli per raggrupparle al centro della sala di fronte al grande teleschermo in preparazione dei due minuti d'odio Winston stava giusto prendendo posto in una delle file centrali quando inaspettatamente erano entrate due persone che lui conosceva di vista ma a cui non aveva mai rivolto la parola una era una ragazza che aveva spesso incontrato nei corridoi ne ignorava il nome ma sapeva che lavorava al reparto finzione forse infatti l'aveva vista qualche volta con una chiave inglese in mano le dita unte di grasso aveva qualche incarico di natura puramente meccanica relativo ad una di quelle macchine scrivi romanzi era una ragazza dall'aria risoluta di circa 27 anni folti capelli neri la faccia punteggiata di lentiggini e movimenti rapidi atletici una sottile fascia scarlatta simbolo della lega giovanile antisesso le girava più volte intorno alla vita sufficientemente stretta per mettere in mostra la forma armoniosa dei fianchi Winston l'aveva detestata dal primo momento in cui l'aveva vista e sapeva anche il perché era motivo di quell'aria da campi di occhi bagni freddi gite di gruppo e indefettibile rigore mentale emanava dalla sua persona detestava quasi tutte le donne soprattutto quelle giovani e graziose erano infatti le donne e specialmente le più giovani a fornire al partito i suoi affiliati più bigotti pronte come erano ad ingoiare ogni slogan a prestarsi a fare le spie dilettanti e le scopritrici dei comportamenti eterodossi questa ragazza in particolare gli dava l'impressione di essere più pericolosa delle altre una volta mentre percorrevano il corridoio lei gli aveva lanciato una rapida occhiata obliqua come se volesse attraversarlo da parte a parte per un istante si era sentito prendere dal terrore aveva perfino pensato che potesse essere un agente della psicopolizia anche se la cosa era assai improbabile in ogni caso tutte le volte che la ragazza si trovava nelle sue vicinanze lui continuava ad avvertire un certo disagio un misto di paura e ostilità l'altra persona era un uomo di nome O'Brien membro del partito interno e titolare di un qualche incarico così importante e inattingibile che Winston se ne poteva solo fare una vaga idea per un attimo nel vedere l'uniforme nera di un membro del partito interno che si avvicinava un mormorio percorse le file di quanti si affaccendavano attorno alle sedie O'Brien era un uomo corpulento tarchiato con il collo largo il volto tozzo e brutale ma non privo di una certa arguzia malgrado l'aspetto terrificante i suoi modi erano garbati aveva il vezzo di riaggiustarsi di continuo gli occhiali sul naso un gesto curiosamente disarmante per qualche strano motivo lo si associava ad una persona ben educata un gesto che se fosse stato possibile pensare in questi termini avrebbe potuto evocare un gentiluomo del settecento che offrisse una presa dalla sua tabacchiera Winston l'aveva visto siena una dozzina di volte in altrettanti anni si sentiva profondamente attratto da lui e non solo perché era incuriosito dal contrasto fra i modi urbani che esibiva e il suo fisico da pugile molto più lo affascinava la segreta convinzione ma forse era una speranza più che una convinzione che l'ortodossia politica di O'Brien non fosse perfetta qualcosa nel suo volto pareva suggerirlo in maniera irresistibile o forse ad essergli stampata in faccia non era tanto l'eterodossia ma semplicemente l'intelligenza in ogni caso sembrava una persona con cui fosse possibile discutere ammesso che si riuscisse ad ingannare il teleschermo e trovarsi faccia a faccia con lui Winston non aveva mai tentato neanche minimamente di verificare la veridicità della sua ipotesi in realtà non ce n'era neanche il modo in quel momento O'Brien dette un'occhiata al suo orologio vide che erano quasi le undici e fu chiaro che aveva deciso di trattenersi nell'archivio fino alla fine dei due minuti d'odio si sedette nella stessa fila di Winston ad un paio di posti di distanza da lui li divideva una donna minuta dai capelli color sabbia che lavorava nel cubicolo accanto a quello di Winston la ragazza dai capelli neri era seduta proprio dietro di loro un attimo dopo dal teleschermo in fondo alla sala esplose uno stridio lacerante terribile come se a produrlo fosse stata una qualche mostruosa macchina mal lubrificata un rumore che allegava i denti e faceva rizzare i capelli in testa l'odio era cominciato come al solito era apparsa sullo schermo il volto di Emmanuel Goldstein il nemico del popolo dal pubblico venne qualche fischio la donna dai capelli color sabbia emise una specie di gemito nel quale si mescolavano paura e disgusto Goldstein era l'apostata il traditore che tanto tanto tempo fa nessuno ricordava quanto era stata una personalità fra le più insigni del partito addirittura quasi allo stesso livello del grande fratello ma poi si era impegnato in attività contro rivoluzionaria ed era stato condannato a morte dopodiché era evaso e misteriosamente scomparso il programma dei due minuti d'odio cambiava ogni giorno ma Goldstein n'era sempre l'interprete principale era il traditore per antonomasia il primo ad aver contaminato la purezza del partito tutti i crimini commessi successivamente contro il partito tutti i tradimenti gli atti di sabotaggio le eresie le deviazioni erano un'emanazione diretta del suo credo egli era tuttora vivo in qualche parte del mondo a tramare le sue cospirazioni forse si trovava in qualche paese al di là del mare al soldo e sotto la protezione dei suoi padroni stranieri forse così correva talvolta voce se ne stava nascosto nella stessa oceania Winston avvertì una stretta al diaframma non riusciva a guardare la faccia di Goldstein senza provare un miscuglio di emozioni che gli dava sofferenza Goldstein aveva uno scarno volto da ebreo incorniciato da un'ampia e crespa aureola di capelli bianchi e da una barbetta caprina un volto intelligente però in qualche modo spregivole al quale il naso lungo e sottile su cui poggiava un paio di occhiali conferiva una certa aria di demenza senile sembrava la faccia di una pecora e anche la voce somigliava ad un belato ora Goldstein stava rivolgendo il solito attacco velenoso alle dottrine del partito un attacco così eccessivo e inico che non avrebbe tratto in inganno neanche un bambino e pur tuttavia plausibile quanto bastava a trasmettere l'allarmante sensazione che potesse far presa su persone sufficientemente credule e ingenue insultava il grande fratello denunciava la dittatura del partito esigeva la rottura immediata della pace con l'eurasia chiedeva a gran voce libertà di espressione libertà di stampa libertà di associazione libertà di pensiero con toni isterici urlava che la rivoluzione era stata tradita parlando concitatamente ed esprimendosi in uno stile polisillabico che suonava come una parodia del modo di parlare tipico dei membri del partito e nel quale non mancava addirittura qualche parola in neolingua a dire il vero ne conteneva più di quante un membro del partito ne avrebbe usate normalmente nel frattempo sul teleschermo alle sue spalle per sciogliere ogni dubbio sui fini reconditi del suo capzioso sproloquio marciavano le sterminate colonne dell'esercito eurasiatico una fila dopo l'altra di uomini massicci con inespressive facce asiatiche che passavano ad ondate sulla superficie dello schermo e poi sparivano solo per essere subito sostituiti da altri uomini perfettamente uguali a loro il passo battuto dagli stivali dei soldati monotono e ritmato faceva da sfondo sonoro alla voce belante di Goldstein l'odio era iniziato da meno di 30 secondi e già da una buona metà dei presenti prorompevano incontrollabili manifestazioni di collera quella tronfia faccia ovina sul teleschermo e la terribile possanza dell'esercito eurasiatica alle sue spalle andavano al di là di ogni limite di sopportazione in aggiunta a ciò la vista di Goldstein o addirittura il solo pensare a lui producevano automaticamente sentimenti di paura e di rabbia Goldstein costituiva un oggetto costante d'odio anche più dell'eurasia o dell'estasia perché quando l'oceania era in guerra con una di queste potenze in genere era in pace con l'altra e però era strano che sebbene Goldstein fosse il bersaglio dell'odio e del disprezzo collettivo sebbene ogni giorno e per migliaia di volte dall'alto di un podio di un teleschermo in libri o giornali le sue teorie venissero confutate fatte a pezzi ridicolizzate ed esposte al pubblico ludibrio per quella spazzatura che erano malgrado tutto ciò la sua influenza non sembrava subire colpi vi erano sempre dei gonzi nuovi in attesa di essere sedotti da lui ne passava giorno senza che la psicopolizia smascherasse spie e sabotatori che agivano sotto le sue direttive era il comandante in capo di un enorme esercito ombra di una rete sotterranea di cospiratori votati al sovvertimento dello Stato pare che si chiamasse la confraternita si mormorava anche dell'esistenza di un libro terribile una sorta di compendio di tutte le eresie di cui Goldstein era l'autore e che circolava in copie clandestine non aveva titolo per la gente era semplicemente il libro ma queste cose non erano soltanto il frutto di dicerie indistinte a meno che non fosse impossibile vietarlo tanto la confraternita che il libro erano argomenti che nessun membro ordinario del partito avrebbe mai menzionato nel secondo minuto l'odio raggiunse il parossismo i presenti si sedevano e balzavano in piedi di continuo urlando con tutte le loro forze nel tentativo di coprire l'esasperante belato che proveniva dal teleschermo la donna la donna dei capelli color sabbia si era fatta tutta rossa in faccia mentre la bocca le si apriva e chiudeva come quella di un pesce tirato fuori dall'acqua perfino il tozzo volto di O'Brien si era infiammato sedeva ben dritto al suo posto col petto poderoso che si gonfiava e fremeva come se dovesse reggere l'impatto di un'onda la ragazza dei capelli neri che sedeva alle spalle di Winston aveva cominciato a urlare porco porco ad un tratto afferrò un pesante dizionario di Neolingua e lo scagliò contro lo schermo il volume colpì il naso di Goldstein poi rimbalzò via mentre la voce seguitava inesorabilmente a farsi sentire in un momento di lucidità Winston si rese conto che stava gridando come tutti gli altri battendo con forza il tallone contro il piolo della sedia la cosa orribile dei due minuti d'odio era che nessuno veniva obbligato a recitare evitare di farsi coinvolgere era infatti impossibile con estasi orrenda indotta da un misto di paura e di sordo rancore un desiderio di uccidere di torturare di spaccare facce ammartellate sembrava attraversare come una corrente elettrica tutte le persone lì raccolte trasformando il singolo individuo anche contro la sua volontà in un folle urlante il volto alterato da smorfie e tuttavia la rabbia che ognuno provava costituiva un'emozione astratta indiretta che era possibile spostare da un oggetto all'altro come una fiamma ossidrica così un istante dopo l'odio di Winston non era più rivolto contro Goldstein ma contro il grande fratello il partito e la psicopolizia in momenti simili il suo affetto andava a quel solitario e deriso eretico sullo schermo difensore unico della verità e della sanità mentale in un mondo di menzogne passava un altro e Winston si ritrovava in perfetta sintonia con quelli intorno a lui e tutto ciò che si diceva di Goldstein gli sembrava vero allora l'intimo disgusto che avvertiva nei confronti del grande fratello si mutava in adorazione e il grande fratello pareva sollevarsi ad altezze vertiginose protettore invincibile impavido in moto come una roccia davanti alle orde dell'Asia e Goldstein a dispetto del suo isolamento della sua impotenza e dei dubbi che avvolgevano la sua stessa esistenza appariva come un sinistro incantatore capace di abbattere l'edificio della civiltà con la sola forza della sua voce in qualche momento era perfino possibile dirigere il proprio odio da una parte all'altra assecondando un atto libero della volontà all'improvviso col medesimo sforzo con cui si solleva la testa dal cuscino quando si vuole uscire da un incubo Winston riusciva a trasferire il suo odio dal volto sullo schermo alla ragazza dai capelli neri seduta dietro di lui allucinazioni vivide splendide gli attraversavano la mente la bastonava a morte con un manganello di cauccio la legava nuda ad un palo e la trapassava con un nugolo di frecce come San Sebastiano la violentava sgozzandola al momento dell'orgasmo in casi del genere capiva anche perché la odiava la odiava perché era giovane bella e frigida perché voleva andare a letto con lei e questo non sarebbe mai stato possibile perché attorno alla sua vita morbida e flessuosa che sembrava chiedere di essere abbracciata girava quell'odiosa fascia scarlotta simbolo di un'aggressiva castità l'odio raggiunse il culmine la voce di Goldstein era diventata adesso un belato a tutti gli effetti per un istante la sua faccia si trasformò in quella di una pecora che a sua volta si dissolse nella figura di un soldato eurasiatico che avanzava enorme e spaventevole sparando raffiche dalla mitragliatrice parve anzi che il soldato fuoriuscisse dallo schermo tanto che alcuni di quelli che occupavano la prima fila fecero un balzo all'indietro sui sedili nello stesso momento però facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo la sua minacciosa figura si dissolse per lasciare il posto al volto del grande fratello i capelli e i baffinieri il raggiante forza e una misteriosa serenità così grande che quasi riempiva lo schermo nessuno udì quel che il grande fratello stava dicendo erano solo parole di incoraggiamento di quelle che si dicono nel fragore della battaglia impossibili a distinguersi ma che fanno riacquistare fiducia per il solo fatto di essere pronunciate poi anche il suo volto si dissolse per lasciare il posto ai tre slogan del partito vergati in lettere maiuscole la guerra è pace la libertà è schiavitù l'ignoranza è forza il volto del grande fratello parve però indugiare per diversi secondi sullo schermo come se l'impatto che aveva esercitato sulle popille dei presenti fosse troppo intenso per poter essere eliminato all'improvviso la donna dai capelli color sabbia allungandosi al di sopra del sedile che aveva davanti tese le braccia verso lo schermo e mosse le labbra in un tremulo bisbiglio nel quale parve di poter distinguere le parole mio salvatore dopodiché nascose il volto fra le mani era chiaro che stava pregando in quel momento tutti intonarono una sorta di salmo dialenta ritmata solenne gf 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 incessantemente lentamente con una lunga pausa tra g e la f un murmure sordo in un certo senso selvaggio nel cui fondo sembrava di udire il battito cadenzato di piedi nudi e le vibrazioni dei tam tam continuarono a cantare per quasi trenta secondi seguendo un rituale che si ripeteva quasi tutte le volte in cui l'emozione si faceva particolarmente forte si trattava in parte di un inno alla saggezza e alla maestà del grande fratello ma soprattutto di un atto di autoipnosi di un volontario tundimento della coscienza raggiunto per mezzo del ritmo Winston avvertì un gelo alle viscere durante i due minuti d'odio non poteva sottrarsi al delirio generale ma questo canto primitivo GF GF lo riempiva sempre di orrore naturalmente cantava come tutti gli altri era impossibile fare altrimenti dissimulare i propri sentimenti controllare i movimenti del volto fare quello che facevano gli altri era una reazione istintiva ciò nonostante vi fu uno spazio di un paio di secondi durante i quali l'espressione dei suoi occhi avrebbe potuto tradirlo e fu proprio allora che la cosa accadde ammesso che davvero fosse accaduta per un attimo Winston incrociò lo sguardo di O'Brien questi si era levato in piedi si era tolto gli occhiali e se li stava risistemando sul naso col suo gesto caratteristico ci fu tuttavia una frazione di secondo in cui i loro occhi si incontrarono e in quel brevissimo arco di tempo Winston seppe si seppe che O'Brien stava pensando le stesse cose che stava pensando lui era stato inviato un messaggio inequivocabile era come se le loro menti si fossero aperte e i pensieri fluissero attraverso gli occhi dall'uno all'altro sono con te sembrava dirgli O'Brien so esattamente quello che provi so tutto del tuo disprezzo del tuo odio del tuo disgusto ma non temere io sono dalla tua parte poi quel lampo di mutua intesa si era spento e il volto di O'Brien era tornato imperscrutabile come quello di tutti gli altri questo era tutto e Winston già dubitava che fosse successo davvero fatti del genere non avevano mai un seguito gli servivano solo a tenere viva la convinzione o la speranza che oltre a lui ci fossero altri nemici del partito forse ciò che si vociferava di complotti clandestini era vero forse la confraternita esisteva sul serio nonostante i continui arresti confessioni ed esecuzioni capitali non si poteva essere certi che la confraternita fosse solo una favola Winston in certi giorni ci credeva in altri no prove non ne esistevano solo tracce incertissime che potevano significare tutto e nulla brandelli di conversazione colti di sfuggita scritte indistinte sulle pareti dei gabinetti pubblici una volta gli era addirittura capitato quando aveva visto due sconosciuti incontrarsi di cogliere in loro un impercettibile movimento delle mani che avrebbe potuto essere un segnale di riconoscimento null'altro che congetture frutto forse della sua immaginazione era tornato al suo cubicolo senza volgere più lo sguardo a O'Brien l'idea di dare un seguito al loro effimero contatto non gli passò neanche per la mente sarebbe stato pericolosissimo anche ammettendo che avesse saputo come mettere in pratica un simile progetto per un secondo forse due si erano scambiate un'occhiata strana ed enigmatica tutto qui ma perfino una cosa del genere costituiva un evento memorabile nella vita di solitaria segregazione in cui si era costretti a vivere Winston si scosse da quei pensieri e raddrizzò la schiena ruttò il gin gli stava risalendo dallo stomaco volse di nuovo lo sguardo alla pagina per scoprire che durante le sue vane fantasticherie aveva continuato a scrivere automaticamente e non si trattava più della grafia goffa e incerta di prima la penna era scivolata voluttuosamente sulla carta levigata vergando in chiare grandi maiuscole le parole abbasso il grande fratello 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 e così via fino a riempire una mezza pagina non poteva impedirsi di sentire una fitta di panico si trattava di una reazione assurda perché quelle parole non erano di per sé più pericolose della decisione iniziale di cominciare un diario eppure per un attimo Winston ebbe la tentazione di strappare le pagine contaminate e rinunciare alla sua impresa non lo fece perché sapeva che era inutile che scrivesse o meno abbasso il grande fratello non faceva differenza alcuna che continuasse o meno a tenere il diario non faceva differenza alcuna la psicopolizia lo avrebbe preso lo stesso aveva commesso e l'avrebbe fatto anche se non l'avesse mai messo nero su bianco quel reato fondamentale che conteneva dentro di sé tutti gli altri lo chiamavano psicoreato era un delitto che non si poteva tenere celato per sempre potevate scamparla per un po' anche per anni ma era sicuro al cento per cento che prima o poi vi avrebbero preso accadeva sempre di notte gli arresti venivano eseguiti sempre di notte il risveglio improvviso e violento una mano brutale che vi scuoteva la spalla la luce delle torce elettriche che vi abbagliava gli occhi il cerchio di facce dure intorno al letto nella gran parte dei casi non si celebravano processi né si stendevano resoconti dell'arresto la gente semplicemente spariva e sempre di notte il nome dell'arrestato veniva cancellato dagli archivi ogni traccia di quello che aveva fatto nel corso della sua vita veniva rimossa la sua stessa esistenza di un tempo veniva prima negata quindi dimenticata l'arrestato era eliminato annientato la parola giusta era vaporizzato per un attimo l'ho preso una sorta di frenesia isterica cominciò a scrivere scarabocchiando in fretta alla bella e meglio le seguenti parole mi spareranno non me ne importa nulla mi tireranno un colpo alla nuca non me ne importa nulla abbasso il grande fratello ti tirano sempre un colpo alla nuca non me ne importa nulla abbasso il grande fratello si appoggiò allo schienare della sedia un po' vergognandosi di se stesso e posò la penna un attimo dopo trasalì violentemente qualcuno stava bussando alla porta erano già qui restò seduto immobile come un topo nella futile speranza che chiunque fosse potesse andare via dopo il primo tentativo ma non fu così si udì di nuovo bussare indugiare sarebbe stata la cosa peggiore il cuore gli batteva in petto come un tamburo ma probabilmente in virtù della lunga abitudine la faccia era rimasta priva di qualsiasi espressione si alzò avviandosi a passi pesanti verso la porta grazie a tutti